Pazio subito ripreso mentre abbiamo visto l'Oda tra i più attivi e Patuelli era rimasto coinvolto in uno scivolone qualche minuto fa siamo a 5 km è Serpellini che si è portato nella scia di Patuelli dietro anche un uomo della cantina Tollo Alexia ha un distacco di una trentina di metri dovrebbe essere Simoni che sta rientrando sulla coppia di testa Simoni parente di Moser, tutti e due di Palù di Giovo dopo una grande carriera tra i dilettanti non ha sfondato tra i professionisti Gianni cosa succede in testa? Sensativo per tre corridori, un certo break rispetto al gruppo ora due curve abbastanza insidiose un adesso verso destra e naturalmente qui si tratta di procedere con grande attenzione fortunatamente in questo tratto non ci sono strisce pedonali con la vernice che rende ancora più pericolosa la situazione entriamo veramente nel vivo di questo finale a te Pizzanti ed eccoli i tre uomini che affrontano con una certa precauzione le ultime curve in prima posizione vedete Patuelli marcato da Serpellini con Simoni in terza posizione e sempre Patuelli che fa l'andatura ma ecco che il gruppo li riprende quando mancano 4 km alla conclusione quindi volata generale ma non è detto perché ci sono ancora tante curve quindi potrebbe esserci uno scatto di un corridore e c'è sempre piccoli nella prima posizione più di uno ecco questo vedete il tratto in pavè solo che in rettilineo quindi non dà problemi e Serpellini che rilancia l'andatura ma il gruppo è in lunga fila indiana allora Serpellini apripista gruppo compatto con Fagnini e piccoli nelle primissime posizioni bisogna stare molto attenti a come viene impostata la curva perché basta un centimetro l'abbiamo visto adesso con questo corridore della Kelme per finire contro il marciapiede devi frenare prima quando imposti la curva non devi correggere la traiettoria perché altrimenti voli via ed è rubiera e devi avere movimenti molto dolci non puoi avere nessun scarto perché non hai aderenza perché l'asfalto bagnato rende proprio nullo nullo la possibilità del corridore di rimediare ad un eventuale errore Cos'è Luis Rubiera spagnolo della Kelme Costa Blanca la formazione iberica da più anni presente nel mondo del professionismo la Kelme aveva in Cepe Gonzales l'uomo di punta Cepe Gonzales ha corso alla sua maniera però non è riuscito a conquistare la leadership nella classifica del Gran Premio della Montagna hanno vinto una tappa grazie a Edo Edo che ha trovato un tratto in leggera salita e quindi partendo da lontano è riuscito ad imporsi siamo ormai a 3 km dalla conclusione di quest'ultima tappa ultima tappa che ripetiamo, ricordiamo a livello tempo è stata neutralizzata all'ingresso del circuito finale mentre continua l'attacco di Rubiera il che vuol dire che nell'esatto istante in cui i corridori sono entrati nel circuito cittadino di Milano la classifica generale è stata bloccata con la meritata vittoria di Marco Pantani sarebbe stato assurdo veder finire con una caduta o con una disgrazia il giro d'Italia e intanto Rubiera approfitta dell'indecisione alle sue spalle non ci sono grandi favoriti non ci sono grandi sprinter pertanto le squadre non lavorano a fondo per andarlo a riprendere e Rubiera adesso ha 7 secondi di vantaggio lo spagnolo Rubiera ha 7 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo manca ormai 1400 metri all'arrivo adesso ci sono gli uomini della cantina tollo-lexia che stanno tirando però sta andando molto bene Rubiera ancora 100 metri il proprio vantaggio e potrebbe anche arrivare di fatti vedete un corridore adesso della cantina tollo che spera di lanciare lo sprint di Strazzer si tratta di Tirenzo ultimo in classifica generale e voleva portare indossare la maglia nera non gli è stato concesso ultimo chilometro anche perché avrebbe dovuto pagare una pesante multa la maglia nera per Antonomasia rimane Malabrocca Malabrocca poi anche Pinarello mentre continua l'attacco di Rubiera noi ci portiamo verso la Balaustra ripetiamo siamo ormai agli 800 metri conclusivi di quest'ultima tappa un lunghissimo rettilineo Rubiera ormai ha un vantaggio di pochissimi secondi il gruppo lo sta riprendendo quindi uno sprint finale uno sprint finale combattutissimo eccoli eccoli in fondo al rettilineo c'è ancora Rubiera Rubiera sta ormai per essere ripreso però non desiste continua a scattare ecco piccoli avete visto piccoli sulla destra Rubiera attenzione mantiene ancora un leggerissimo margine di vantaggio ormai è ai 50 metri e vediamo lo sprint ed è ancora Fagnini che vince Fagnini che riesce a precedere tutti mentre vediamo Fagnini esulta ma a centro gruppo esulta anche al completo la Mercatone 1 Pantani con tutti i suoi bravissimi gregari primo Fagnini secondo Stratter quindi pronostico rispettato gli unici due velocisti rimasti in a corsa Fagnini che ottiene la seconda vittoria di tappa a questo giro allora possiamo analizzare questo sprint uno sprint che si è risolto proprio all'ultimo momento con il guizzo di Fagnini ecco vedete Rubiera ecco Stratter sulla destra piccoli che si guarda intorno ed ecco il recupero di Fagnini mentre in terza posizione dovrebbe essere finito Sprucca lo vedete proprio alla ruota di Fagnini quindi Fagnini Stratter e Sprucca e Sprucca hanno praticamente hanno praticamente lanciato lo sprint gli uomini che normalmente sono gli apripista beh sono riusciti a lanciarsi molto bene dall'ultima curva e hanno corso il rischio perché Rubiera ha tenuto molto bene ha fatto le ultime due curve fortissimo ed è stato raggiunto proprio a una cinquantina di metri dal traguardo anche meno ed ecco Fagnini con Golinelli abbiamo qualche problema a livello interfonico per cui prego Giovanni Bruno di ripetere con più tranquillità e alzando un attimo la voce perfetto adesso abbiamo recepito e ricevuto il messaggio ecco lo sprint di Fagnini che supera a doppia velocità lo spagnolo abbiamo detto ai primi tre posti abbiamo uomini che normalmente lanciano lo sprint oggi hanno avuto la possibilità di giocare le proprie chance manca Cipollini e Fagnini che è l'ultimo a lanciargli lo sprint può vincere mentre guardate la grinta di piccoli a questo punto si rassegna la rassegnazione di piccoli il dolore di Rubiera la gioia di Fagnini si proprio la smorfia di Rubiera forse sperava pensava di vincere questa tappa anche perché all'ultima curva quando stava per essere raggiunto è riuscito a guadagnare ancora qualche metro ma è stato raggiunto proprio in vista del traguardo da un Fagnini che è uscito sta uscendo molto bene da questo Giro d'Italia ha vinto l'altro giorno a Mendrisio e ha vinto oggi qui a Milano Strasser invece forse ha pagato un po' troppo le fatiche delle alte montagne un Strasser che è un velocista puro pattisce un po' di più questi percorsi questi percorsi appunto con le alte montagne rispetto ad un Fagnini che invece si difende molto meglio allora è l'ultima tappa mentre vediamo 4 ore 40 primi 12 secondi la media 33 e 704 per superare i 157 chilometri di quest'ultima tappa che ha visto il secondo successo di Fagnini davanti a Strasser e Sprou allora secondo me è il caso di parlare di questo ragazzo di questo Fagnini che fu secondo in un grande sprint ai Campi Elisi battuto da Abdujaparov e che è sempre stato costretto a interpretare il ruolo del Gregario cacciato l'anno scorso e secondo me erroneamente perché l'infrazione che era stata così che aveva provocato l'uscita di scena di Fagnini secondo me era dovuta a stanchezza a ingenuità non certo a cattiveria esce di scena il suo capitano Cipollini e la Saeco Cannadel ritrova in questo ragazzo lombardo l'uomo vincente si ritrova proprio un uomo vincente abituato a tirare volate a Cipollini merita questo primo piano questo fermo d'immagine bravo Giambatteo ha comunque vinto cinque corse prima di questo giro d'Italia l'arco di trionfo mancava nella panoramica dei monumenti Saeco Cannadel che ha visto sfumare le possibilità di successo nella classifica generale per l'abbandono di Gotti ma ha trovato un Fagnini che ha vinto due tappe ed ha vinto la classifica dell'intergiro una delle più importanti a questa corsa quindi molto bravo Fagnini che appena avuto la possibilità l'ha presa al balzo ha fatto le volate per sé a parte oggi l'altro giorno che ha vinto sì in volata ma partendo da lontano in una fuga di 20-25 corridori quindi l'ha cercata l'ha ottenuta e proprio per questo è doppiamente bravo e siamo alle premiazioni apriamo naturalmente con il vincitore dell'ultima tappa Gian Matteo Fagnini allora Fagnini per la seconda volta sul podio ma il trionfatore l'uomo che ha rilanciato alla grande questo Giro d'Italia 81esima edizione si chiama Marco Pantani grazie a Marco Pantani che abbiamo avuto modo di dire è l'atleta più amato per le sue continue sfortune e un break umano ha telefonato ad Ambrogio Fogar dicendogli ti verrò a trovare appena possibile è stato fantastico Pantani in questo giro un uomo dal mare che va come come un fulmine in salita il partito non pensava di avere un terreno adatto per lui lo avevo anche sternato parecchie volte però ci ha creduto fino alla fine ha sempre attaccato in salita la strafa di Montecampione è stata fantastica perché e adesso sentiamo Fagnini con Cerquetti allora Gian Matteo complimenti me l'avevi detto oggi mettimi in primo nel pronostico io peraltro ti ho anche dato fiducia come era giusto che fosse un bis importante peraltro in una situazione anche difficile per condizioni ambientali sì il circuito è stato reso molto pericoloso dall'acqua sono state diverse cadute e abbiamo deciso insomma di andare un po' tranquilli anche perché era scontata la volata Rubiera è andato via hai avuto paura di perdere questa tappa no perché c'era la Cantinatolo che controllava per Strasser però visto che non partiva nessuno a far la volata e Rubiera era ancora a 50 metri sono partito io ai 3.50 penso e penso di aver vinto bene quando non c'è il leader Cipollini insomma il suo scudiero si difende alla grande ma lo ripeto ancora l'ho detto l'altra volta quando c'è Mario è lui il leader non è stato molto bene si è ritirato ho deciso di farle queste due volate e mi è andata bene la condizione c'è e ho sfruttato al meglio insomma la forma che mi è venuta in questo finale di giro con questi successi non ti viene voglia magari diventare il primo sprinter di un'altra squadra o stai bene così? ma c'ho ancora il contratto c'ho il contratto biennale con la Saeco e quindi per l'anno prossimo sarò ancora con Mario e poi non so si deciderà in futuro ma penso di rimanere con lui grazie complimenti a te Dezan ed ecco che la regia ci ripropone lo sprint per la verità in apertura di trasmissione avevamo subito detto che il logico favorito in una in una zona di velocisti ormai ridotta all'osso Fagnini era indubbiamente il grande favorito era il più pronosticato e ha vinto alla grande battendo nell'ordine Stratzer e Spruck Spruck che normalmente tira le volate a Svorada ma Svorada non è presente a questo giro ma lo sarà al Tour si sarà il velocista della Mappé Bricobi al Tour prossimo appuntamento il Tour de France ma prima del Tour ci sarà il campionato italiano già domani Pantani correrà una chermessa a Bologna e archiviamo questo Giro d'Italia abbiamo avuto la fortuna di commentarlo perché è stato un giro di taglia fantastico penso il più bello degli ultimi anni se non altro per l'incertezza che è rimasta dentro tutti coloro che l'hanno visto fino a Lugano fino a ieri e soprattutto perché ci ha riproposto un uomo che ha finalmente battuto non solo gli avversari ma la sfortuna hai parlato di Kermesse di circuiti un tempo erano di grande attualità subito dopo il giro poi dopo che Nino Recalcati che è stato il re delle Kermesse è andato in pensione purtroppo questo bellissimo spettacolo è terminato tanto è Pantani che sale sul podio ed ecco qua con Pantani vediamo l'onorevole Formigoni sulla sinistra il presidente della federazione ciclistica Ceruti eccolo qua Marco Pantani il pirata finalmente veste la maglia rosa e la fanfara qui sotto ricorda con l'inno di Mameli ha intonato l'inno di Mameli per ricordare eccola qua l'inquadratura la fanfara militare ricorda questa splendida vittoria di Marco Pantani il pirata ha battuto non solo gli avversari ma anche la sfortuna bravissima è un grande è veramente un grande tanti complimenti grande Pantani e bravi grandi anche i nostri tecnici veramente siamo riusciti a far vedere un giro d'Italia bello abbiamo avuto la fortuna che i corridori ci hanno aiutato tantissimo però senza l'apporto dei tecnici di tutti coloro che hanno lavorato per questo grande spettacolo non ci saremmo riusciti quindi grazie a tutti quanti e adesso attendo da Giovanni Bruno la conferma che la telecronaca è conclusa concludiamo con questa immagine splendida e passiamo subito la linea a Claudio Ferretti per il processo alla tappa